Nessuna ondata di ottimismo. È così che i mercati hanno reagito allo storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Dopo il summit di Singapore, i due leader hanno firmato un documento per la denuclearizzazione della penisola, che sarà perfezionato con ulteriori incontri, senza rivelare altri dettagli. Una stretta di mano storica, che però non ha mandato in euforia ai mercati, con gli investitori che si sono dimostrati cauti. Da parte delle borse, in realtà, non c'è mai stata troppa attesa per l'incontro. Gli investitori sono maggiormente concentrati sugli appuntamenti di politica economica della settimana, tra le decisioni sui tassi della Federal Reserve e quelle sul Q e della Banca Centrale Europea. La conclusione positiva, almeno nei toni, del summit non ha suscitato alcuna reazione né dal dollaro né dallo Ien. I mercati, forse, si rendono conto che questo è solo il primo passo di un lungo processo verso il raggiungimento della pace. Anche perché il summit si è concluso solo con una foto ufficiale della stretta di mano e pochi dettagli, in realtà, sul modo in cui gli USA otterranno davvero la denuclearizzazione della penisola nordcoreana. Lo statement è stato infatti criticato da più parti per l'assenza di chiarezza sulle modalità del processo di denuclearizzazione. E le borse sono rimaste caute, forse in attesa di maggiori chiarimenti. Non ci sono dettagli, ha detto a Bloomberg Kyong Shinshigane, chief strategist della Mitsubishi UF J. Kokusai Asset Management Co. a Tokyo. Stanno dicendo che ci proveranno, ma non sappiamo se questo si concretizzerà in realtà. Anche dopo che Trump ha aggiunto qualche dettaglio in conferenza stampa, gli investitori non si sono mossi. È un discorso che dice poco su cosa faranno, ha detto Clive McDonald, head of emerging market equity strategy della standard chartered bank a Singapore. Siamo ancora in attesa. Il presente materiale di marketing è emesso da Pictet Asset Management, Europe, S.A. Esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pictet, o in forma cartacea presso Pictet Asset Management, Europe, S.A. 6b, Rudufort-Niedergrenod, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pictet nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE, unicamente per finalità illustrative.